Una coppia di coniugi è stata trovata morta all'interno di una profumeria a San Severo in provincia di Foggia. Secondo le prime notizie, la donna di 55 anni è stata raggiunta da tre colpi di pistola ed è morta subito. L'uomo di 56 anni, pregiudicato per reati di droga e scampato di recente ad un altro attentato, è stato raggiunto da più colpi, alcuni dei quali anche in testa, che non gli hanno lasciato scampo. Secondo quanto ricostruito dagli uomini della squadra mobile della questura di Foggia e del commissariato di San Severo che indagano sull'episodio, stamane un pick-up con alcune persone a bordo si sarebbe fermato nei pressi dell'attività commerciale. Due individui sarebbero scesi dal veicolo e dopo essere entrati nella profumeria avrebbero fatto fuoco contro i due coniugi. Le armi usate, secondo i primi rilievi, sarebbero due pistole calibro 9 o mitragliette dello stesso calibro. Tra le ipotesi investigative più accreditate al momento c'è quella della eventuale vendetta perché nell'ottobre del 2016 il figlio minorenne della coppia aveva ucciso a colpi di pistola, forse per questioni legate ad una ragazzina contesa, un giovane minorenne sanseverese. Per tale omicidio il figlio della coppia uccisa stamane è attualmente in carcere. Sull'episodio indagano gli agenti del commissariato di polizia di San Severo.